Ormai è un appuntamento consolidato a Campli nella frazione di Campovalano. Quest'anno logicamente ci sarà la nuova location perché l'associazione domenica, io tra l'altro ero presente, ha inaugurato la nuova sede dove si svolgerà la sagra. Dai 1500 a 2000, tutti coperti e poi c'è altri spazi liberi nei dintorni che si possono adoperare, è un bel locale, è un bello spazio arredato che dovrebbe diventare un centro per noi di Campovalano perché a Campovalano attualmente non c'è niente. Speriamo bene che la gente si rimanga contente e noi ce la mettiamo tutti per farli tornare per un altro anno con la nuova sede e il nuovo menù. Quest'anno abbiamo abbandonato le lumache, però abbiamo accolto le burrate al tartufo e un roast beef di vitellone, rientrano sempre nei piatti speciali, quindi sono solo per pochi, ma non perché non li vogliamo dare a tutti, ma sono solo per pochi perché facciamo dei piatti speciali, sono dei numeri limitati, quindi sono 50 porzioni, 50 porzioni a sera, chi vuole deve venire a mangiare presto. È una saga molto importante che non promuove solo il prodotto che è il tartufo, ma anche gli eventi culturali, non ci dimentichiamo quest'anno che ci saranno dei bus navette che porteranno a fare le visite guidate a Campi, quindi non solo le neogastronomie ma anche promozione del territorio.